Sono Giussi Fabio e sono la vicepresidente dell'Italia, del Sud Italia di AISFONLUS, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, un'associazione nazionale con delle sedi locali regionali, di cui uno è presente a Valgheria Palermo, che si occupa di supportare, aiutare, ascoltare, informare i pazienti fibromialgici. Oggi ci troviamo qui in questo corso educazionale modello fibromialgia che è stato organizzato attraverso un progetto del Buccheri Laferla, un corso di educazione per i medici, medici di medicina generale, medici specialisti, su quello che è la fibromialgia. Come AISF abbiamo voluto dare legida il nostro patrocinio perché per noi è di fondamentale importanza la formazione, la conoscenza da parte del personale sanitario della nostra patologia. Perché? Perché purtroppo ad oggi i pazienti fibromialgici molto spesso si ritrovano ad avere davanti personale sanitario che addirittura la considera inesistente e questo toglie dignità ai pazienti fibromialgici, li frustra perché non avere neanche la dignità ad essere considerati malati è davvero qualcosa che distrugge il paziente, quindi non solo distrutto dalla patologia ma anche distrutto da questa mancata conoscenza. Purtroppo alla luce del corso che si sta svolgendo ci stiamo rendendo conto che l'attenzione da parte del personale sanitario, di medici non c'è perché c'è poca presenza e questa è una cosa che mi preoccupa come referente di un'associazione di pazienti perché il paziente fibromialgico deve essere correttamente indirizzato e l'indirizzo corretto può essere dato dal medico di medicina generale, può essere poi gestito nel momento che ha una diagnosi e la gestione della patologia non può darlo allo specialista ma può darlo il medico di medicina generale. Per non parlare anche della completa proprio non conoscenza della patologia dei medici di medicina legale, dei medici di lavoro, quindi il mio appello in questo momento è quello invece di sensibilizzarsi al problema, formarsi, noi i mezzi li stiamo mettendo a disposizione per poter correttamente, per quello che è giusto per i pazienti fibromialgici aiutare e fare corretta diagnosi e giusta cura.